Salmo 109 Davide preziose lezioni con noi, insegnandoci a mantenere i nostri cuori ancorati nell'amore anche di fronte all'avversità. Mossa dalla necessità di rispondere a coloro che lo calugnano, Davide cerca l'intervento divino. Implora affinché Dio non rimanga in silenzio di fronte agli empi che tramano contro di Lui. Le lingue velenose che proferiscono bugie e parole di odio sono percepite come un'ingiusta stretta. Tuttavia, in mezzo a questa angoscia, Davide riafferma la sua posizione come un uomo di preghiera, dimostrando la sua fiducia nel potere delle suppliche. Una delle caratteristiche notevoli di questo Salmo è l'intercessione di Davide per le conseguenze che cadranno sui suoi nemici. Supplica affinché coloro che si oppongono a lui siano giudicati e che la verità trionfi nel tribunale divino. Colui che cerca la distruzione del salmista deve essere ricordato per le sue cattive azioni e affrontare le conseguenze dei suoi peccati. Tuttavia, in mezzo a queste richieste di giustizia, Davide ci ricorda un principio fondamentale. Nonostante le maledizioni rivolte agli avversari, enfatizza l'importanza di non lasciare che l'odio prenda il sopravvento nei nostri cuori. Davide. Riconosce che siamo chiamati ad essere figli di Dio, esseri radicati nell'amore e nella compassione. Davide ci incoraggia a superare la tentazione di rispondere al male con il male, sottolineando che la nostra identità dovrebbe riflettere la bontà divina. Davide immagina scenari simbolici che dipingono un quadro vivido delle conseguenze della malvagità. Parla di figli orfani, distruzione familiare e perdita dell'ascito. Queste potenti immagini servono come un richiamo a riflettere sull'impatto delle nostre azioni non solo nelle nostre vite, ma anche nelle vite di coloro che ci circondano. Tuttavia, Davide non si limita alla retribuzione. Esprime la sua stessa fragilità di fronte alle prove, condividendo la sua sensazione di svanire e di debolezza. Le metafore dell'ombra notturna e del cavalletto trasmettono l'effimerità della vita umana. Questa vulnerabilità lo rende affine a chiunque si sia mai sentito perso nell'oscurità. Al cuore della sua preghiera c'è l'appello per l'intervento divino. Davide anela all'aiuto del Signore, al suo amore infallibile che può salvarlo dalle sue tribolazioni. Riconosce che, in ultima analisi, è Dio a portare giustizia e protezione. E mentre prega per questo, si impegna ad esaltare e lodare il Signore in mezzo alla congregazione dei fedeli. Questo salmo ci ispira a pregare con un cuore sincero, a cercare la giustizia con compassione e a confidare nella saggezza divina. Ci ricorda che, anche quando affrontiamo avversità e diffamazioni, possiamo trovare forza nella connessione con il Divino. Il messaggio sottostante è chiaro, dobbiamo sforzarci di vivere vite radicate nell'amore, lasciando che la benevolenza superi qualsiasi impulso di vendetta. Mentre contempliamo le appassionate parole di Davide, siamo sfidati a riconsiderare le nostre stesse reazioni di fronte all'avversità. Possiamo trovare ispirazione nella sua ricerca di giustizia e nella sua devozione alla preghiera. Che possiamo ricordare che, indipendentemente dalle circostanze, l'amore e la compassione sono sempre una strada più nobile. Che possiamo, come Davide, cercare la guida divina e permettere che la luce della bontà illumini il nostro cammino. Che possiamo, come Davide, cercare la guida divina e l'amore.